Due amici erano che parlavano in un bar Eh amico mio, amico mio Una volta sì che erano tempi Eh sì, erano tempi genuini Risponde l'altro Eh lo so, eh lo so A casa mia mia madre cucinava sempre con il dado Risponde l'altro Eh almeno voi mangiavate Eh sì, mangiavamo Ma mangiavamo solo se usciva il sei Oh yeah